e adesso andiamo avanti dunque allora per prima cosa vediamo un attimo se per caso nel allora un attimo eh che voglio fare prima questo perché non lo so ok perfetto allora facciamo prima questi qua eccoci qua quindi allora facciamo eh tentiamo di fare questi qua almeno prima e dopo vediamo ok quindi adesso praticamente finiamo tutto il diciamo il percorso del tutorial adesso vediamo e dopo andremo alle competizioni però prima mi sa che finiamo queste parti qua allora in base queste qua sono guide allenamento praticamente poi devo partire con le varie gare arena eventi e campionati io ho già sbloccato questa qua nel tutorial se non sbaglio questa skin guarda la carrozzeria perfetto adesso praticamente questa qua è una gara checkpoint praticamente ti fanno vedere man mano tutti i vari percorsi e i vari e le varie sfide che ci sono durante tutto tutto il gioco praticamente dobbiamo praticamente riuscire a fare tutti i check point non dico facendo il minchione perché non serve fare il minchione ovviamente però se uno fa il minchione è ovvio che perde poi Yopo no? come è successo fermati va bene ma niente perché mi sono perso comunque i giorni prima tutte queste gare sono tutte per allenarsi. Allora adesso torniamo indietro e andiamo a vedere là che già ci sono sempre i tutorial Rhythm Racing! Questo può essere difficile per i nuovi driver di master. Si sembra facile, è solo una lunga e straight track, certo? Noi non sei capace, un buon Monster Jam driver sapete che non sempre vuoi prendere il trotto vabbè fa niente se arriviamo secondi la terra che vuole beeeella però in seconda posizione ci stava ma in seconda posizione vado a prendere quello lama e ce l'avranno sul gozzo prima 2 su 50 e poi non l'avranno preso nello spezzone precedente se non sbaglio non so se si vede ok ok testa a testa il classico circuito basi diciamo si può anche se non mi butti fuori magari poi cosa succede se mi butti fuori e no perché è un giro che me l'aveva battuto quindi non posso neanche recuperarlo infatti vedi praticamente man mano che sbloccherete i punti ovviamente potete potenziare il vostro track e mi sembra anche acquistare anche le varie varie carrozzerie se non ricordo male adesso andiamo a vedere comunque ok vediamo un attimo allora con ah vabbè i punti mi sa qua allora però io volevo vedere una cosa vabbè qua è il coso giusto sì io però voglio vedere una cosa per esempio questo qua vedi praticamente man mano qua puoi sbloccare tutta la roba perfetto ok allora andiamo qua facciamo primo freestyle e le robazie avanzate freestyle there are two important things to remember when competing in a freestyle event first you gotta keep moving around the entire arena or stadium so the whole crowd can see you aim for the glowing beacons to increase your combo multiplier second you gotta do stunts great job now let's have you try a front flip partiamo in porta e andiamo verso il cassonetto più che cassonetto il container nice flip now let's try a bicycle that's when your truck drives on two of its wheels on one side altrimenti andiamo via I'll stage you facing a ramp to help slowly roll half your truck sim ah aspetta 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 Sì, va bene, va bene. Ok, in prima velocità colpisci lo stancolo, la tiara dopo di che tieni premuto ZL. Perfetto, questa era facilissima. Vabbè, noi facciamo a random adesso. Quindi, a random e mi raccomando, tutto a caso, ok? Perfetto. Allora, vinciamo? Adesso te la faccio vedere via la pomba. Allora, faccio vedere io la pomba adesso. Allora, guarda qua. Te la faccio vedere io la pomba. Allora, guarda qua. No, mi sembra che non ce la faccio. Sì, comunque tante volte, tante volte devo ammetterlo. E' proprio il... come si dice? Il computer che gestisce male la... La... la cosa. Io lo so, infatti. Vabbè, adesso vediamo. Adesso vediamo. Ok. Allora, facciamo. E' all'aperto. Prendiamo questo. Allora, questi qua si direi di potenziarlo a questo punto. Perfetto. Sì. Ok. Perfetto. Semplicemente bla bla bla, eccetera. Ok. Go. Sempre la quarta. Allora, in teoria mi sa che è la quinta, eh. Perché vedo che adesso qua c'è il gol, quindi dovrebbe essere la quinta, il giro completo. La quinta è il giro completo, dovrebbe essere. Partenza anticipata, ma di poco. Stavolta. Minchia che scatti. Vabbè, adesso in teoria dovremmo farcela. In teoria. Se non mi perdo dovremmo farcela. In teoria, eh. Adesso andiamo a vedere. Vai, ultima curva. E adesso ci siamo, forse. Dai, dai. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Allora c'era. Poi, peccato che sto facendo la gara. Speriamo che sia stata sbloccata dopo. Almeno quello. Ma se io forse con, ma penso di sì ovviamente. Che man mano che sblocchi le arene o le gare ti sblocca anche tutto quello dove vai a farle. Secondo me, eh. Ma penso di sì. Perché sei ben detto che ti sblocca le aree, quindi vuol dire che in qualche modo c'entra. risultati siamo ancora a 19. Ah sì, un'altra cosa che non vi ho detto. Ehm. Ogni tanto si possono consumare le gomme e possono anche esplodere e quindi col pulsante B si possono ripristinare. Però bisogna farlo in fretta. Vediamo l'ultima. Aspetta, eh. No. Wow. Ok. Allora, io direi di salutarci qua. Noi ce li vediamo alla prossima live o al prossimo video o qui su YouTube o sul gruppo ehm o sulla pagina Facebook Next Player o sul gruppo Nintendo Switch gruppo italiano. Noi ce li vediamo. Adesso vediamo qua come si è messi. Ciao e alla prossima.